Inaugurato in piazza municipio uno scenografico albero di luci colorate installato da Sitelum su progetto dell'artista Sergio Fermariello. Alta più di 15 metri, la creazione raffigura con gusto pop alcune immagini tipiche del Natale. Questo intervento mio vuole essere proprio questo alleggerimento, questa visione infantile, se vogliamo naif della natività. Il sacrificio di un anno viene sospeso e ci ricordiamo gli alberi della cuccagna, in questi colori io vedo quasi il riposo dell'occhio, il riposo festoso dell'occhio che si riposa su una immagine che in questo caso è nutritiva. Il Natale attraverso le luminarie si sta diffondendo in tutta Napoli, è quello che volevamo, è stato uno sforzo enorme del comune, di Sitelum, in parte anche di tanti operatori della città e c'è soddisfazione vedere che questo Natale si sta riempendo di tanta umanità e di tanta gente nella nostra città. Le luminarie servono un po' per accendere le luci della rinascita che vuole partire molto dalla nostra città, che vuole dare serenità, armonia in un momento difficile. Prosegue intanto l'accensione delle luminarie in città. Dopo l'avvio nella zona di Chiaia, l'area di piazza Trieste e Trento, il parco Corto Maltese a Scampia e altri quartieri della città è stata ieri la volta del Vomero, con le installazioni di piazza Van Vitelli e delle vie circostanti. Il senso che noi abbiamo voluto dare a questo Natale, tra mille difficoltà anche economiche, è di arrivare con le luci in tutte le municipalità, perché come state vedendo ogni giorno c'è un pezzo di città che si illumina, tra mille difficoltà e devo dire anche senza avere il contributo di chi ci avrebbe voluto dare una mano e che non ce l'ha data. Invece tanti piccoli commercianti o piccoli operatori hanno anche fatto la loro parte, quindi questo è anche un gioco di squadra.